Dopo l'intensa perturbazione della serata di venerdì e della notte verso sabato, sabato in mattinata la perturbazione avrà lasciato la regione, quindi avremo un relativo miglioramento sulla regione. Domenica un'alta depressione interesserà la regione. Per quanto riguarda la previsione per sabato avremo al mattino residui e piogge sulla zona orientale, mentre a ovest avremo le prime schiarite. Sulla costa vento di libeccio sostenuto. In giornata prevalenza di cielo nuvoloso sui monti dove sarà ancora possibile qualche locale rovescio o isolato temporale, mentre su pianura e costa dovrebbero prevalere le schiarite anche se sarà sempre possibile qualche isolato rovescio temporalesco. Temperature massime intorno ai 25 gradi su pianura e costa, minime intorno ai 17-18 sulla pianura, 20 sulla costa. Per quanto riguarda la giornata di domenica avremo cielo da variabile a nuvoloso con rovesce temporali sparsi più probabili nelle ore pomeridiane ma possibili isolatamente anche al mattino. Ci sarà comunque qualche fase di tempo migliore alternata appunto a dei rovesci temporali sparsi. Temperature massime tra i 23 e i 25 gradi su pianura e costa. Per lunedì ancora tempo incerto ed instabile con cielo in prevalenza nuvoloso e residui e piogge in genere deboli o moderate. Dall'Osservatorio Meteo Regionale dell'Arpa. Un saluto da Marcellino Salvador.